Un grande successo anche quest'anno la festa di Halloween a Borgo Montone. Tantissime le famiglie per le strade del paese a fare dolcetto scherzetto. Questo uno degli appuntamenti più amati dei bambini ravennati. L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato Cittadino di Borgo Montone con il patrocinio del Comune di Ravenna. È stata una festa per tutti, come si era detto, soprattutto per i bambini che hanno vissuto questo appuntamento ormai tradizionale in modo particolare. Lungo le vie del paese la Notte della Paura è tornata con animazione per grandi e bambini e ha regalato tante emozioni. Non è mancata la rocca della verità con le streghe e la bici del terrore, oltre a un grande cimitero, con dediche speciali quest'anno. Dal romagnolo Marescotti alla regina Elisabetta e a Silvio Berlusconi. Un altro messaggio importante è proprio dal grande cimitero dedicato alla guerra. La festa quest'anno ha voluto anche sensibilizzare per la pace del mondo.